Signor Sindaco, il 2023 si sta per concludere, ma il 2024 parte col botto con un grande evento in Piazza Matteotti. Eh sì, io spero che il 2024 sia un ulteriore anno importante per Capodorlando. Partiamo giorno 1 con Silvia Mezzanotte in Piazza Matteotti. Noi cerchiamo di riprendere anche ovviamente sempre con oculatezza quelli che sono i fasti di Capodorlando che vengono riconosciuti un po' da tutti. E poi ci sono una serie di manifestazioni importanti perché al Teatro dello Scalo ricordiamo che ci sono anche dei concerti, ci sono delle manifestazioni per bambini. Insomma c'è tanto, tanto da vedere e da fare, ma devo dire che durante questo periodo stiamo vedendo una larga presenza di persone che non sono solo orlandine, ma di tutto il territorio. Che voglio ricordare sempre, sono sempre ben volute a Capodorlando perché qualcuno magari alle volte dice Ah, leggo su Facebook che dicono a Capodorlando che non ci volete. Assolutamente no, Capodorlando è un paese ospitale. Io sono contento. Se potessi fare in modo che venissero tutti i cittadini dei Nebbroti al di là di quelli che sono i turisti. Quindi venite, sarete accolti bene, ci sarà soprattutto giorno 1 questa bravissima cantante che vale la pena veramente di ascoltare e quindi vi aspettiamo.